pace buona giornata di benedica oggi è 24 dicembre stiamo parlando di alcune donne menzionate nella scrittura di cui spesso si perde il ricordo ma che hanno lasciato un buon profumo il buon profumo di cristo e stamattina parleremo di maria maddalena che è una delle annunciatrici della resurrezione del signore maria maddalena è sicuramente una donna straordinaria che come leggiamo in luca al capitolo 8 al verso 2 era stata liberata da parte del signore in quanto cristo aveva scacciato via da lei sette demoni maria maddalena la vediamo essere accanto al signore durante il suo ministerio terreno mentre si trova sulla croce ma la vediamo anche come protagonista dell'evento della resurrezione fin quando gesù era in vita e svolgeva il suo ministerio terreno maria maddalena insieme ad altre donne servivano il signore lo sostenevano lo aiutavano quando poi gesù venne messo in croce troviamo ancora una volta maria maddalena insieme alle donne a giovanni il discepolo che gesù amava proprio lì ai piedi della croce maria quindi era lì quando il signore venne crocifisso ascoltò la conversione tra gesù e i ladroni e il gentile comando dato a giovanni per sua madre udì il grido straziante vide con terrore probabilmente le tenebre che oscurarono il cielo e si meravigliò quando sentì il centurione affermare veramente quest'uomo era giusto veramente quest'uomo era figlio di dio vide sicuramente anche la lancia che trafisse il costato di gesù e il militare che arrivò sulla scena mentre il centurione lasciò i suoi uomini e corse via non sapeva che era stato mandato per informare pilato circa l'avvenuto decesso dei tre condannati e quando si fece silenzio e la folla si dileguò maria e le altre donne rimassero sempre lì e non era ancora andata via quando due uomini torsero il corpo di gesù dalla croce giuseppe darimatie nicodemo mi riferisco i quali presero e seppellirono il corpo del signore in una tomba la tomba di giuseppe darimatea e mentre loro lo stavano facendo ancora maria maddalena e maria madre di giacomo e ioso erano lì sedute di fronte al sepolcro perché volevano essere edotte su dove il corpo del signore si trovava in modo da andare e onorarlo ancora una volta la domenica mattina e proprio la domenica mattina maria maddalena è lì è lì molto presto ad andare alla tomba si chiede insieme alle altre donne chi avrebbe rotolato la pietra ma quando arriva la pietra ormai tolta via dalla tomba perché un angelo che era stato mandato dal signore aveva rotolato la pietra e si era seduto sopra e maria maddalena è una di quelle che per primo viene rassicurata da parte dell'angelo che il signore non era lì ma era risorto ed ella va secondo l'ordine che le è stato dato ad annunziare ai discepoli che il signore era risorto sì che era morto ma che un angelo gli aveva detto che era risorto ma il suo cuore era ancora triste addolorato tant'è che la vediamo tornare al sepolcro e la vediamo incontrare un uomo un personaggio strano che le chiede perché piangi e maria maddalena pensando che fosse il giardiniere l'ortolano gli dice guarda se tu hai preso il corpo del mio signore dimmi dove l'hai messo io voglio andare ad onorarlo ma improvvisamente una voce la chiama per nome l'ortolano le dice maria e lei subito risponde rabbuni perché riconosci in quella voce la voce del suo amato signore gesù cristo e allora lì realizza che veramente il signore era risorto e prende torna va di nuovo dai discepoli a dire è risorto e l'ho visto l'ho visto con i miei occhi ci aiuta il signore ad avere la stessa attitudine di maria maddalena una donna che sempre è stata vicino al signore dopo che dal signore era stata liberata lo ha servito in tutti i modi possibili e immaginabili e lo ha onorato con i suoi beni e lo ha onorato con la sua presenza lì ai piedi della croce e l'è stata un'aralda dell'evangelo della buona notizia della risurrezione di cristo presso i suoi discepoli e tutto questo l'ha fatto per amore per riconoscenza verso quell'uomo che l'aveva liberata verso quell'uomo che non era semplicemente un uomo era anche il figlio di dio il messia e cari che mi state ascoltando se la grazia di dio è intervenuta nella nostra vita e ci ha liberato dai nostri peccati noi non possiamo non fare quello che maria fece dobbiamo essere pronti ad onorare il nome del signore a servirlo ad amarlo con tutto il nostro cuore e ad annunziarlo a quanti si trovano ancora nelle catene del peccato che c'è liberazione che c'è vita che c'è salvezza alla croce al calvario maria lo fece perché aveva incontrato personalmente cristo risorto nella sua vita certo noi non lo possiamo incontrare esattamente come maria fece cioè vedendo il suo corpo risorto e glorificato ma lo possiamo incontrare ogni qual volta vogliamo nella nostra stanzetta segreta mentre ci troviamo nella comunità locale e celebriamo il culto al signore lo possiamo incontrare perché egli è presente ogni qual volta viene invocato e diciamo questa mattina al signore con tutto il cuore signore forse tu non mi hai liberato da sette demoni come hai fatto con maria maddalena ma tu mi hai liberato dal dolore dall'angoscia dalla paura della morte mi hai liberato dal peccato e dalla condanna che esso porta con sé tu signore hai fatto cose grandi nella mia vita io voglio darti i miei giorni voglio darti i miei talenti voglio darti tutto il mio cuore voglio che io possa appartenere interamente a te perché solo perché so che solo tra le tue braccia io sono al sicuro e quella voce che duemila anni fa chiamò per nome maria sta chiamando anche te questa mattina